Nell'ultimo Consiglio regionale per quanto riguarda l'agricoltura uno dei temi cruciali è stata sicuramente la protesta che sta di fatto nascendo in tutta Europa e anche in Italia. Una protesta che si basa sulle scelte dell'Unione Europea della nuova PAC. Io credo che come Regione Autonoma Valle d'Aosta abbiamo voluto dire chiaramente anche in Consiglio che stiamo e continuiamo a lavorare per continuare a coltivare i nostri territori, a non abbandonare i nostri territori perché è fondamentale il lavoro che svolgono tutti gli agricoltori per mantenere la nostra terra pulita e il nostro paesaggio bello come siamo abituati a vederlo. Quindi avendo chiarito chiaramente questa nostra posizione e continuando a lavorare su questo solco che abbiamo già tracciato da diversi anni, abbiamo garantito come Governo regionale la continuità in questo senso dando pieno appoggio a tutti gli agricoltori che hanno voglia di continuare a lavorare la nostra terra e a valorizzare i nostri prodotti. E proprio sui prodotti un'altra iniziativa delle opposizioni si è concentrata sulla carenza delle fontine in magazzino in questo momento. Abbiamo evidenziato ovviamente che in questo momento è ovvia e fisiologica una carenza proprio per l'organizzazione del nostro settore zootecnico, ma abbiamo anche ribadito chiaramente che tutte le azioni di promozione che stiamo facendo sono mirate ad un innalzamento anche del prezzo della fontina. Quindi avere una carenza della materia prima può portarci delle opportunità di sviluppare questo tipo di ragionamento. Noi continueremo a valorizzare i nostri prodotti in primis la fontina, continueremo a valorizzare le nostre DOP tutte assieme per parlare sempre più al mondo esterno di Valle d'Aosta e di quello che è il lavoro duro che svolgono i nostri allevatori, i nostri agricoltori, perché solamente così possiamo dare loro un reddito degno per riconoscere il lavoro grande che stanno svolgendo, oltre che per la Valle d'Aosta, per tutta l'Italia e per tutta l'Europa. Grazie Grazie Grazie